Una vita che sembrava segnata sin dalla nascita e che invece la fede gli ha consentito di ricostruire tassello dopo tassello. Quella del rapper Thomas Valsecchi in arte shock è una storia di abbandono, perdizione e redenzione. Nato a San Patrignano, figlio di due ospiti della comunità di recupero per tossicodipendenti, è finito nel vortice della droga sin da giovanissimo, vivendo anche per strada e finendo per prostituirsi. È stato un incontro a salvargli la vita. E a fargli scoprire il potere salvifico della fede, che gli ha consentito letteralmente di rinascere. Questa domenica, a partire dalle 17, lo racconterà lui stesso in un incontro aperto a tutti, presso le sorgenti a Lecce. E voi avete scelto così di avvicinare i giovani a questi incontri tramite i giovani. Sì, certo, certo. Questo incontro sempre è mirato a sensibilizzare i nostri ragazzi a comprendere che negli abissi più profondi c'è sempre una luce che risplende. Per questo abbiamo invitato Shock, che è un ragazzo che è nato nella comunità di San Patrignano e che ha toccato proprio il centro della terra per la sofferenza. A un certo punto poi del suo cammino incontra Gesù e Gesù gli salva la vita. Poi il resto lo scoprirete venendo alle sorgenti. Fortemente voluto da padre Mario Marafioti, gesuita fondatore della comunità Emanuel, è organizzato insieme ad un gruppo di volontari l'incontro all'obiettivo di rifocillare l'animo, di invitare ad alimentare la speranza ostinatamente e ricercare la gioia vera nelle infinite sfumature che la vita offre, ostacoli inclusi. E noi abbiamo questo grande desiderio di ascoltare i giovani. Per questo motivo abbiamo invitato a venire Shock di persona, proprio per scendere a quella che è la comunicazione dei giovani. Una comunicazione che si fa voce anche attraverso le canzoni, attraverso le loro emozioni che diventano oggetto dei testi. E nella contemporaneità di queste canzoni noi vogliamo dare voce a quella che è la loro vita, la vita di ragazzi a volte che magari non vengono ascoltati. Vi aspettiamo. Grazie a tutti.